musica 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 ma è uscito il nuovo samsung è uscito il nuovo iphone ma che cos'è ma dove di com'è bello un miracolo e una cosa ma cosa stai dicendo guarda è uscito il nuovo iphone se è della apple è l'azienda numero al mondo motivo ci sarà la elefere le mele facciamo una cosa chiediamo a lui quella è la migliore apple o samsung chiediamo a lui signore dei telefoni dici tu dici tu dici tu dici tu quale è il telefono migliore tra samsung galaxy o iphone tu che sei il signore dei telefoni dici qual è il meglio il meglio è il samsung il meglio è l'iphone venite con me questo è l'ultimo modello di samsung galaxy questo è l'ultimo modello degli iphone bellissimi quanto costano? 2000 euro però dato che sono dei prototipi ancora in fase di sperimentazione e voi ragazzi mi piace ve li lascio in prova non è il mio tutto 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 sono il cellulare di marco ricciardelli lui oh oh ma la cosa si sta a scaricare? no aspetta 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 adesso basta la luminosità così rispariamo batteria ma lo speriamo che mantieni un po' luminosità? al minimo oh no hanno rubato il cellulare aspetta lo posso rintracciare con l'applicazione trova il mio iphone sono qui sono qui sono qui com'era quella cosa? no non era non è ando così ma la cosa si blocca? bloccato? no poi fra due ore ci vediamo lì mi vado a fare passeggiata ciao e devo fare una chiamata urgente andiamo dalla FSM Siri sei una stronza non mi offendere sei una schifezza vivente sono senza parole ehm sei cretino ehm sei cretino ma come ti permetti qua? è in su della me ma cambia un console? nooo nooo ehi Galaxy anche io oggi faccio l'aggiornamento da 8 a 8.1 aggiornamento in corso yeeeh aggiornate ehm 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 Samsung è meglio iPhone è meglio Nokia è meglio bella raga bella raga questo è Frenchmall e hai appena visto iPhone contro Samsung se il video ti è piaciuto clicca mi piace condividi cerca la nostra pagina Facebook e profilo Instagram abbiamo un solo canale di Frenchmall questo è l'originale le altre sono solo brutte copie c'è hashtag copioni merda you have a new message iPhone Metro no greening